ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo creme bombe ultima bacia di questo liquido poi non se ne aventerà più sulla pietra un liquido che ha fatto la sua storia nel mondo dello svapo ora andiamo a fare la prova di questo liquido che al suo interno ha crema al tartufo bianco cacao cioccolata e crema come se piovesse tanta roba allora vai io andrò a provare sopra alla mercoledì a portarlo all'elevata la evaporazione che col tsunami kit proviamo vai gabrie partiamo dal fatto che ho un liquido invernale che però ci stiamo avvicinando temperature ci sono un po' abbassate magari a lungo andare ti stuca un po' perché è un po' è carico però questi liquidi a confronto dei liquidi che siamo abituati a svapare diciamo che è il concorrente del Tupaf se la giocano il Tupaf e questo se non voglio essere l'inverno non lo vedremo più questo liquido qui ce lo daremo stretto forse ogni tanto farebbe di patina l'inverno però voto 10 10 la crema cioccolato ti ammazzano proprio la bocca un po' di fritta si la cialata fritta buonissima la cialda fritta anche il settore di cioccolato si sente un po' dal tuffo la gomma tanta roba ringraziamo svapocaffè abbiamo fatto l'ultimo acquisto di queste boccette Allora, dalla taverna dello Swap è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram Veniteci a seguire nei nostri video Vi aspettiamo Ciao